buongiorno a tutti oggi una veloce guardata questo router tcl hh 515 prestato mi gentilmente da enzo che ringrazio ovviamente non è una recensione è solo uno sguardo veloce non ho la scatola di acquisto mi è arrivato purtroppo con l'alimentatore sbagliato non sono riuscito comunque a rispondere in qualche modo è solo una veloce sguardo questo router che comunque reputo abbastanza interessante prima di tutto come sapete io abito qua circa questa è la mia bts di test quindi anche con le n78 per fare dei test in 5g nsa che sono le caratteristiche del router quindi un 5g che può fare che vai in wifi 6 download vabbè numeri che mai vedremo può essere un 5g nsa sa nsa vuol dire not stand alone che è l'unico che al momento funziona in italia e stand alone invece quando potremo andare solo di 5g invece il nostro 5g nsa significa che deve essere sempre accompagnato dal 4g vabbè 4g lte categoria 19 insomma solite solite caratteristiche questa è la pagina del router vedete insomma un po è curioso perché c'è tutto è tutto puntinato particolare come router devo dire non mi dispiace anche esteticamente e va bene vi faccio vedere il non unboxing dei poveri perché non l'ho unboxato perché non era la confezione originale ma ve lo faccio vedere per lo meno vedete com'è tutto puntinato quindi abbiamo un pulsante di accensione vps che non uso mai purtroppo la porta telefonica non aveva una sim con traffico voce per una storia lunga e dei ritardi delle post bla 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 abbiamo 1 lan 1 e lan 2 qui abbiamo tasti ovvero ben già visti qui ecco a confronto con un b618 uno zx l nr 1 nr 5 1 0 1 il solito m5 e questo è il nostro router di test e qua di fianco anche allo xiaomi che abbiamo già visto e va bene questa foto non c'entra niente andiamo a vedere innanzitutto l'interfaccia home eccola qui molto semplice molto reattiva non possiamo decidere le bande non possiamo fare sell lock cioè mettete la sim e andate fondamentalmente ho provato a guardare un po anche il codice sul router non ho trovato nulla di interessante qui vabbè roba degli sms che non ho potuto provare comunque devo dire che l'interfaccia di questo è veramente reattiva molto reattiva molto meglio dello xiaomi va bene qui guardate i dati mobili gestione profilo per l'apn impostazioni modalità di ricerca queste le modalità 5g o 4g la parte del wifi ve la mostro rapide rete ospiti ecco vediamo se sono riuscito a bloccarlo gira gira va bene vps non l'abilita non mi interessa vps il pin della sim impostazioni avanzate ci fermiamo qui vi faccio vedere velocemente questo è simpatico questa opzione non l'ho testata però sembra apparentemente carina ok potete filtrare filtro mac dns vediamo quali sono le opzioni che si possono mettere dmz ok mettete la vostra macchina ovviamente dmz solo se avete il un ip pubblico altrimenti comunque non siete raggiungibili come vpn abbiamo le due solite le vecchie pp2p e l2tp inoltre porta se volete fare che non so sempre se avete un ip pubblico e volete ridirezionarvi qualche porta internamente parental control vediamo che opzioni abbiamo imposta ok va bene potete decidere ok qui ci facciamo un bel porn hub.com se volete bloccarlo ma non lo blocchiamo sistema password accesso ora di sistema tr069 non vi serve a niente backup e ripristino solite cose riavvi ripristino aggiornamento vediamo se abbiamo un firmware nuovo gira gira software aggiornato e va bene questo è quanto ma come funziona ben tanto queste sono le lingue e va bene torniamo su home vediamo qua come gira facciamo il tamarro direttamente insieme ma avete già visto uno speed test questo è uno speed test fatto in casa in questo momento si comporta bene tenete conto che adesso siamo a metà pomeriggio circa quindi ci può essere anche congestione tutto quanto però è un test condotto in casa sta utilizzando la banda 78 si comporta bene rispetto allo xiaomi che comunque aveva parecchi problemi in casa questo va bene devo dire è nello stesso identico posto dove avevo messo allo xiaomi e funziona bene come vedete decisamente utilizzabile certo non avete nessun tipo di controllo su questo router veramente zero ma il che a me insomma fa un po storcere il naso però comunque funziona abbastanza bene non posso lamentarmi adesso andiamo a provare anche sul tetto vado e riaccomi qua di ritorno dal tetto facciamo qualche speed test un momento di congestione abbastanza spinto visto quindi metterlo sul tetto in download non comporta granché anche perché c'è proprio una congestione piuttosto pesante a livello di bts addirittura stiamo andando di meno di quanto abbiamo fatto in interno però in upload come vedete spinge sicuramente di più è un router economico non vi permette nessun tipo di impostazione per chi comunque non ci smanetterebbe più di tanto non saprebbe neanche come fare mi sento di consigliarlo funziona bene lo tenete in casa non è antenne esterne né nulla va bene per chi invece un po più smanettone gli piace capire fino in fondo tutto quello che gira dietro al 4g gli vuole ottimizzare la banda così ci sono router migliori come l'nr 5101 ad esempio sempre rimanendo sui router da interno quindi devo dire che tutto sommato ha un suo senso questo router e mi è piaciuto devo dire che mi è piaciuto maggiormente da utilizzare in casa in casa va più che bene più che bene e ringrazio ancora Enzo per avermelo fatto provare un saluto a tutti ciao